Questa storia racconta di un tempo in cui YouTube, la TV e il cinema ancora non erano stati inventati, ma esistevano già da moltissimi anni svariati modi per raccontare storie. Si raccontava con le parole, con le immagini disegnate, con i movimenti del corpo, con la musica e a volte con tutte queste cose assieme. C'era una volta un giovane vampiretto, era una marionetta del Teatro delle Ombre, all'Empire Teatro di Londra. I suoi spettacoli erano molto apprezzati, erano così coinvolgenti e facevano veramente paura. Oh Mel, mi vuoi sposare? Oh Johnny! Il vampiretto era stanco di fare paura. Non voleva più essere un'ombra chiusa in un teatro, avrebbe voluto esplorare il mondo a colori, fuori dal teatro delle ombre, recitari e storie di fiori che sbocciano, di cavalli liberi al galoppo. Il suo padrone, il signor Treui, notò le macchie sulla marionetta, ma non capì che erano lacrime. Si è macchiato! Dovrò prepararne un altro! Ehi, aspetta, vengo con te! Non pensarci neanche! Mi saresti solo l'intralcio! Questa è la mia occasione! Accidenti! Questa luce è insopportabile! Passa! Prendi! Tieni! Ecco! Prendi! Passa! Prendi! Tieni! Ancora tu? Ah! Non posso sopportare questa luce! Trista il mio destino! Volevo conoscere il mondo e invece non riesco neanche a tenere gli occhi aperti e non posso neanche correre! Mi hanno disegnato così, con le gambe rigide! Ti ho portato un paio di occhiali da sole, così le luci te la meno fastidio! Grazie! Venite a scoprire la magia del fenachristoscopio! Dove i disegni si muovono e prendono vita! Amico! Questo fennasto, stachisto, questo fenachristoscopio è quello che fa per te! Stratta in groppa, amico! Sganciati, amico! Buona fortuna! Buona fortuna! Sì, le mie gambe e le mie braccia ora si muovono! Ma dove sono finito? Succede sempre la stessa cosa! Aiuto! Venite a scoprire la magia del fenachristoscopio! Dove i disegni si muovono... Arrivo! Si è rotto! Ehi, sei stato fortissimo! Da dove si va ora? A Parigi! Tieniti forte! Madame e messieurs, la nostra invenzione vi strablierà! Avrò il piacere di avervi i miei ospiti stasera al Cinematograph, nella Villumière, la nostra a Paris! Mon frère ha inventato una macchina incredibile! È in grado di scattare molte fotografie velocemente su una pellicola e poi, sempre con la stessa macchina, è possibile proiettarla! Va a manovella, però, abbiamo fatto una ripresa a questo treno, alla stazione di La Fiotà! È incredibile! È proprio come se fosse vero! Amico, mi sa che resterò qui! C'è un attorno, signor Lumière! C'è un sacco di lavoro, ragazzo! Il cinema è tutto da inventare! E fu così che il vampiretto fece il suo debutto nel cinema! Divenne famoso in tutto il mondo! E visse per sempre felice e contento! I suoi spettacoli erano cosi... Erano così... All'empiretto odio... Non so l'inglese, non so l'inglese! Oh, Johnny! Non so l'inglese, non so l'inglese, non so l'inglese! Ehm... 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 Passi... Dammi sta paglia! Ehm... Passi... Ehm... 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 Mamma mia, allora va benissimo! Fila... Ciscoscopio! Ehm... Vieni... Ssshh... Ehm... Sì, silenzio, per favore! Ehm... Fena che scoscopio! Fena... Ehm... 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 8 ore di colmo... Da spalarsi! Ehm... 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 Grazie a tutti.